Salve a tutte e a tutti, vi ringrazio moltissimo di questo invito e soprattutto di questa occasione molto preziosa di discussione in questo momento. Premessa, io farò una relazione, come mi è stato anche chiesto, che inquadra le vicende sanitarie italiane lungo tutto l'arco storico che va dalla riforma del 78 fino ad arrivare più o meno alla riforma del titolo quinto del 2001. Quindi cercherò di essere sintetica. Un servizio sanitario in grado premessa di garantire una copertura universale finanziato attraverso la fiscalità generale e con una capacità di intervento sia preventivo che diagnostico terapeutico a livello territoriale e a livello ospedaliero, qual è il nostro, direi che è stata ed è l'unica organizzazione capace di affrontare in modo efficace una condizione come quella dell'infezione da coronavirus. Nessuno schema, infatti, di assicurazione privata che si basi sul principio di equivalenza fra contributi e benefici e separi la prevenzione collettiva dall'assistenza individuale, può affrontare con uguale ampiezza di intervento e disponibilità di risorse un evento come quello attuale. Quindi la pandemia porta con sé una riflessione ampia, critica, radicale e soprattutto politica sulla sanità e sulla salute, permettendoci di tornare alle origini, alle radici storiche e soprattutto politiche e sociali dello strumento che è stato maggiormente investito dall'emergenza, intendo l'SSN, il Servizio Sanitario Nazionale. I limiti che si sono mostrati a fronte dell'impatto dell'emergenza sono casomai derivati dal definanziamento dell'SSN e della sanità pubblica a favore della sanità privata e dall'indebolimento della medicina territoriale che aveva informato la fisionomia dell'istituzione dell'SSN. Ora, se posiamo lo sguardo sul contesto italiano, balza subito agli occhi un dato molto interessante ma di controtendenza, relativo al fatto che in Italia una delle più importanti riforme, anzi direi la più rivoluzionaria in materia, si ebbe in materia di welfare, si realizzò proprio quando altrove in Europa stava per cominciare la controrivoluzione neoliberale. L'approvazione infatti della legge istitutiva dell'SSN, la 833, è del dicembre del 78 e fu, questo lo sottolineerò più volte, l'effetto di quanto prodotto e agito durante gli anni 60 e soprattutto 70, allora quando si diede a livello complessivo sul welfare una serie di, e non solo, vita a una serie di esperienze, sperimentazioni, pratiche di lotta, conflitti, elaborazioni teoriche che a mio parere non hanno uguali nella storia dell'Italia repubblicana. In questo senso le vicende dell'SSN si combinarono e furono espressione dell'emergere di nuove e collettive soggettività, di una inedita pressione dal basso, di aspirazioni trasformative del tessuto sociale e dell'assetto istituzionale. Le vicissitudini che portarono alla riforma sanitaria furono il frutto di una particolare sinergia che si realizzò, direi, a Monte, ma anche a Valle, dell'approvazione della legge del 78, tra conquisti operai e sindacali in fabbrica, elaborazione di linee generali di riforma, pressioni e mobilitazioni portate avanti dalle varie realtà della stagione dei movimenti, provvedimenti di pianificazione regionale sanitaria, rafforzati anche dall'istituzione del 70 delle regioni, scusate, e dal decentramento territoriale dei servizi sociosanitari. La peculiarità del caso italiano, quindi, conferma, direi, il rilievo del laboratorio italiano degli anni settanta, l'onda lunga del bienio 68-69 e la forza produttiva proveniente da quelle soggettività collettive interessate a introdurre modelli profondamente nuovi. Lo sottolineo, l'SSN fu espressione di quella che chiamerei una politica delle alleanze, nella quale si saldarono le conquiste del movimento operaio, lo ripeto, e sindacale in fabbrica, le pressioni e le mobilitazioni portate avanti dal movimento femminista, da quello studentesco, ovviamente da quello di lotta per la salute, a quello psichiatrico, della psichiatria radicale, rafforzati anche dal decentramento territoriale dei servizi sociosanitari. I conflitti, quindi, che sorsero in questo periodo storico attorno al welfare, le sperimentazioni che a livello territoriale si diedero, riuscirono a prospettare, per la prima volta, direi, un nuovo modello di welfare, opposto a quello che, sino a quel momento, vigeva, informato da logiche burocratiche, da tratti corporativi, occupazionali e discrezionali. E fu, quindi, l'elaborazione dell'SSN il frutto di un lungo processo, in realtà il cui incipit lo potremmo addirittura collocare nell'esperienza della resistenza, pensa a Giovanardi, al Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, ma anche al dettato costituzionale, all'articolo 32, quindi, della Costituzione. Vorrei ricordare che prima dell'SSN vigeva il sistema mutualistico, per i lavoratori, i pensionati e i loro familiari, in caso di malattia, l'assicurazione era gestita da grandi enti previdenziali, separati, distinti, frammentati, dedicati al pubblico impiego, un esempio fra tutti, l'EMPAS o l'INADEL, ma oppure che si occupavano del settore privato, l'INAM. L'INAM era divenuto il maggiore ente mutualistico previdenziale del Paese, e adesso però si affiancavano altre casse mutua di malattia, per coltivatori diretti, artigiani, commercianti, e altre decine e decine di casse autonome, aziendali o di categoria. Un quadro quindi quello del mutualismo sanitario, che forniva trattamenti modesti, assolutamente diseguali, inefficienti, differenziati e soggetti a particolarismi di ogni tipo. La partita in gioco per tutti gli anni 60 e 70 attorno alla riforma sanitaria e alla fine della sopravvivenza degli enti mutualistico previdenziali fu enorme e vide conflitti molto accesi tra soggetti di varia natura. Non mi posso soffermare, ma casomai rimando ad altri scritti. Il sistema mutualistico quindi che precedeva l'SSN era caratterizzato da regimi diversi che differenziavano in ordine a più linee di frattura, ad esempio quelle relative alla qualifica o ai redditi delle singole categorie di lavoratori, quelli riconducibili ai singoli enti preposti alle varie forme di assistenza, quelli riferiti alla diversa ripartizione degli oneri a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro. Proprio in questa situazione gli anni 70 segnarono una rottura. Il dibattito infatti, ma già negli anni 60, sulla salute si aprì a nuovi orizzonti e prese forma compiuta nel decennio successivo, intercettando le domande di cambiamento che informavano i conflitti sociali di quegli anni. Il movimento per la riforma sanitaria si intrecciò, anzi fu espressione, con una forte pressione dal basso, con le aspirazioni trasformative del tessuto sociale e istituzionale, con un fermento intellettuale di ampissimo respiro. In questo senso direi le origini politiche dell'assetto universalista, pubblico e decentrato dell'SSN, il quale peraltro rispose a un'impostazione della salute come fatto sociale e politico, a una visione integrata dell'intervento sanitario e di quello sociale, alla centralità del momento preventivo su quello quantitativo, al forte accento sull'approccio epidemiologico, a un'organizzazione periferica e territoriale, a un ampio diffuso... Ma tutti scusate per il ritardo. ...capace di investire questioni legate alla tutela anche dell'ambiente. Buongiorno. E nel dipartito, non posso soffermarmi, ma vorrei ricordarlo, furono coinvolti moltissimi attori sociali, politici, ambiti collettivi di ricerca, nuovi saperi, forme di lotte, furono coinvolti i partiti, PC in particolare, PSI e sindacato CGL, ma anche biografie singolari, quelle più importanti, Giordone, Maccacaro, Giovanni Berlinguerra, Seppilli e via dicendo. Punti di riferimento di un profondo innovamento anche nel rapporto tra medico e paziente. Ad accomunare tutti questi protagonisti fu una visione unitaria e integrata della salute, fisica e psichica, individuale e collettiva, legata al territorio, alla comunità. E fu anche una concezione politica politica dell'ambito medico della salute, fisica e psichica, individuale e collettiva, legata al territorio. E a unirli fu una concezione politica dell'ambito medico-sanitario e anche una profonda consapevolezza delle responsabilità del capitalismo maturo. A questo si sommò anche una nuova impostazione del rapporto tra medico e paziente, ma anche l'opzione per un'organizzazione sanitaria periferica e decentrata, per una gestione diretta e partecipata della sanità, per la centralità del momento preventivo rispetto a quello curativo. Ma anche un forte accento, e questo lo vorrei ricordare alla luce dell'oggi, per la centralità dei servizi di cure primarie rispetto a quelli ospedaliere. D'altra parte il dettato costituzionale dell'articolo 32 era stato molto chiaro, il diritto alla salute, unico diritto sociale riconosciuto come fondamentale doveva mettere insieme profilo soggettivo, individuale e interesse della collettività. E qui risiede l'originalità del caso italiano, proprio nella convergenza culturale e politica sull'ipotesi di riformulare in termini universalistici il sistema sanitario. Di qui anche la necessità di una tutela della salute da realizzarsi in modo capillare, mediante la predisposizione di un servizio sanitario ripeto pubblico universale, finanziato tramite la fiscalità generale, garantito a tutti e a tutte nell'accesso e nell'uso. Ora, altro nodo importantissimo, la storia dell'SSN ci propone uno strumento alla luce dell'oggi, soprattutto rispetto ai rapporti Stato-Regioni molto problematici, uno strumento molto importante. Lo strumento era nel raccordo presente nella legge istitutiva dell'SSN tra una programmazione regionale condizionata però da un piano sanitario nazionale volto a ottenere prestazioni uguali e uniformi in tutto il territorio con obiettivi di uguaglianza delle prestazioni fornite. La riforma del 78 quindi muoveva da una preoccupazione che era quella di garantire universalità, equità di accesso, globalità di copertura, omogeneità di quelli che poi si sarebbero chiamati livelli essenziali e uniformi di assistenza, ma anche, alla luce dell'oggi va sottolineato, da un'istanza di solidarietà tra le regioni. L'articolo 2 della legge 833 infatti delineava vari obiettivi tra cui il superamento degli squilibri territoriali del paese e tra gli strumenti dell'SSN assegnava allo Stato la direzione politica sanitaria tramite il piano appunto sanitario nazionale e alle regioni i compiti di integrazione, programmazione e coordinamento degli interventi sanitari anche per via legislativa. Ma anche i comuni avevano un ruolo importante, molto importante perché a essi spettava la responsabilità diretta di gestione delle USL. Le USL dovevano ricoprire un ruolo di primo piano perché a esse spettava, contro la frammentazione del sistema mutualistico precedente, la gestione unitaria della salute in modo uniforme sul territorio nazionale e dovevano essere anche l'organo principale della partecipazione democratica e popolare. Partecipazione, qui l'accenno, che tuttavia venne ben presto ridotta, derubricata a rappresentanza di tipo partitico, impermeabile a quelle stanze molto invece forti negli anni settanta, assembleari e partecipative. A finanziare il Servizio Sanitario Nazionale doveva essere il Fondo Sanitario Nazionale con un importo stabilito ogni anno in sede di redazione di bilancio statale ripartito tra le regioni, ma tenendo conto sulla base di indice standard, diceva la legge, che dovevano garantire i livelli di prestazioni sanitarie in modo uniforme su tutto il territorio. Punto qualificante dunque della riforma era una programmazione pensata su due livelli, il piano sanitario e i vari piani sanitari regionali, secondo un sistema definito a cascata. Ora, l'inerzia governativa che subentrò alla fine degli anni settanta, ricordiamoci che ministro non sarà più Tinanzelmi ma Renato Altissimo, cioè l'esponente del Partito alla Liberale che era quello che più si era opposto alla riforma, quindi l'inerzia e i ritardi sulla realizzazione del piano sanitario nazionale ebbero ricadute molto forti rispetto ai rapporti tra regionalismo e pianificazione nazionale. L'istituzione delle regioni e l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione erano stati di grande importanza e le regioni ebbero un ruolo molto importante in quegli anni rispetto a più aspetti compresa l'attuazione della riforma sanitaria. Erano stati un laboratorio, quello regionale, fucina di idee, modelli innovativi e molte regioni, Emilia Romagna, Piemonte, avevano dato vita ai primi piani sanitari regionali con molta competenza e anticipo. Tuttavia, come dicevo, la tarda approvazione tardissima del piano sanitario nazionale, che era pensato per il 79 e avverrà solo nel 1994, e la mancanza di coordinamento e di indirizzi nazionali, ma anche la mancata definizione di livelli di assistenza uniformi, si fecero sentire e generarono ben presto i primi divari e differenziazioni territoriali. A questo si aggiunsero altri problemi che accenno, il fatto che le regioni avevano intrapreso un cammino espansivo in ambito sanitario, mentre le politiche di riduzione già iniziate della spesa pubblica a livello centrale erano sempre più severe. E, d'altra parte, molte regioni, il protagonismo di molte regioni, le rendeva libere di alluttare soluzioni diverse in ordine alle proprie specifiche risorse e capacità politico-amministrative. Insomma, la progressiva dissociazione tra politiche nazionali e politiche regionali, i ritardi anche nel passaggio al finanziamento dell'SSN tramite fiscalità generale, finirono per limitare il suo funzionamento. I rapporti tra livello nazionale e regionale si fessero sempre più problematici in tutto questo e anche le regioni cominciarono a perdere il proprio ruolo propositivo. Le nuove spinte alla depoliticizzazione dell'assistenza sanitaria e la svolta manageriale che inizia già negli anni Ottanta e poi sancita negli anni Novanta mutano profondamente il quadro con tutti i pericoli dovuti a un abbandono da parte dell'Italia di principi universalistici che l'Italia aveva adottato tra i primi paesi nell'Europa continentale. In particolare, la riforma del Novantadue, la cosiddetta riforma della riforma sotto il dicastero della sanità di Francesco De Lorenzo, che procedette in tre direzioni specifiche aziendalizzazione, regionalizzazione del servizio, privatizzazione del sistema. In particolare, voglio ricordarlo, l'aziendalizzazione trasformò le USL in ASL e permise anche la realizzazione della separazione fra compratori e produttori di prestazioni. La Lombardia ne fece largamente ricorso optando per un modello separato, aperto della concorrenza fra fornitori pubblici e privati posti peraltro sullo stesso piano. La regionalizzazione motivata sulla base di principi di federalismo ebbe l'effetto anche di rigidire il vincolo di bilancio delle regioni rispetto alla spesa sanitaria. La privatizzazione attribuì alle regioni la possibilità di disporre l'uscita volontaria di parte dei cittadini dall'SSN verso i cosiddetti altri incaricati di servizio mutue aziendali professionali volontari o assicurazioni private. In tutto questo il quadro degli anni novanta fu quello di un'accesa aziendalizzazione anche adottando modelli ispirati alla new public management cioè ai principi del managerialismo. Il passaggio dalle USL alle ASL quindi alle aziende era quello del passaggio da un modello integrato a un modello contrattuale. Il decreto successivo correttivo Ciampi-Garavaglia del novantatré eliminora l'apertura alla privatizzazione del finanziamento che però rimase da quel momento in poi una tentazione sempre riemergente. Alla fine degli anni novanta la riforma importantissima è quella introdotta da Bindi da Rosti Bindi e il decreto numero 229 che muove dall'obiettivo di riconnettersi alla legge istitutiva del del settantotto contrastando anche quella che veniva definita una privatizzazione passiva e un federalismo da abbandono nelle relazioni tra Stato e regioni e tra l'altro si inseriva in un momento di fortissimo scontro tra i sostenitori delle privatizzazioni della sanità tradotto la privatizzazione in possibilità per i cittadini di uscita dall'SSN sviluppo di fondi sanitari integrativi privatizzazione degli ospedali concorrenza tra fornitori pubblici e privati e dall'altra parte per fortuna i difensori dell'SSN il collante di questo nuovo assetto venne identificato nei importantissimi LEA e appunto ripeto l'idea fu quella di cercare di introdurre una legislazione nella legislazione un concetto come quello dei livelli essenziali e uniformi di assistenza poi fatto proprio anche per altri settori tuttavia va subito sottolineato che la realtà si è molto discostata dalla normativa in quanto ILEA sono stati garantiti solo in molti territori formalmente mentre le prestazioni effettivamente erogate sono state spesso diverse da quelle previste dalla normativa l'approvazione della riforma del titolo quinto della costituzione considerata uno spartiacque ha ulteriormente problematizzato la situazione essa ha stabilito una nuova ripartizione delle competenze fra livelli paritetici di governo più favorevole alle regioni e riguardo alla sanità ha riservato allo stato competenze esclusive sulla definizione dell'EA mentre alle regioni è stata riconosciuta una competenza concorrente sulla in materia di tutela della salute ora il passaggio dalle delle competenze regionali da una materia che prima era oggetto a una materia qualificata di scopo ha reso ancora più incerti e mutevoli i confini delle nuove competenze regionali alimentando il contenzioso tra Stato e regioni mi avvio alla conclusione questa tentata forma di federalismo volta a consolidare l'autonomia delle regioni avrebbe in realtà richiesto un sistema di istituzioni molto più solido per facilitare le relazioni tra Stato e regioni e una chiara definizione delle fonti di prelievo e della responsabilità di spesa ma direi anche un rafforzamento del livello di regia e guida nazionale i rischi connessi al federalismo in sanità ricordo anche il decreto legislativo cinquantasei del duemila hanno riguardato un'accentuazione come hanno scritto Vines e Dirindin delle differenze territoriali nella qualità e qualità delle prestazioni e il prodursi di un sistema in cui sono presenti regioni con diversi livelli di solidarietà nel finanziamento del servizio sanitario nazionale tra l'altro il nuovo dettato legislativo ha incontrato anche la nuova politica dei piani di rientro e qui ci sarebbero molte cose da dire su come poi sono stati diciamo conseguiti i risultati rispetto ai piani ai disavanzi regionali che sono stati perseguiti spesso con blocco dell'assunzione del personale imposizione fiscale riordino e limitazione dell'infrastruttura ospedaliera ora arrivando diciamo alla fine è importante quindi come dire sarebbe fondamentale rivedere il sistema anche dei piani di rientro finalizzandoli non solo al superamento dei disavanzi di bilancio ma anche a quello ai deficit nelle garanzie dei servizi concludo dicendo che l'emergere dei disavanzi sanitari è stato soprattutto l'effetto di una sottostima del fabbisogno dell'SSN e le criticità tuttora presenti sono molto da imputarsi ai vincoli imposti a livello di spesa soprattutto nelle regioni sottoposte a piani di rientro peraltro in tutto questo a partire dal 2001 ma anche prima il ruolo dei comuni è sempre più impallidito essendo essi stati schiacciati tra il gigantismo del aziendale delle ASL e anche il consolidamento delle stesse regioni tutti i problemi che sono emersi come diceva Antonio all'inizio con la pandemia in termini anche di diseguaglianze territoriali di abbandono della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro di stentato sviluppo dell'assistenza primaria e territoriale di enfasi sui grandi ospedali soprattutto rispetto al ruolo rafforzato della sanità privata come avete visto sono il risultato di cambiamenti subentrati già a partire dagli anni ottanta e le spinte poi al ridimensionamento della spesa sanitaria alla privatizzazione si sono aggravate con i tagli ulteriori e concludo introdotti dalle politiche di austerità a partire dalla crisi del 2008 io credo che il servizio sanitario nazionale ci dà anche un metodo e il metodo io credo che in questo senso gli esperti non bastano e la capacità di resistenza di esso può dipendere a mio parere da scelte politiche che verranno fatte da un rilancio di un servizio sanitario pubblico universale e qualitario senza discriminazioni di accesso da un'espansione dei servizi di welfare dalla rimessa in campo del principio dell'integrazione socio-sanitaria da una nuova politica delle allevanze e da un grande movimento culturale come ha scritto di Rindin che teso a rivalutare il ruolo svolto dalla sanità pubblica e io credo quindi che si tratta allora nel 78 come oggi di combinare intervento coordinato sanitario pianificazione programmazione nazionale dei servizi corrisponzione unificata e integrata dei servizi socio-sanitari decentramento territoriale di essi gestione democratica e partecipata visione unitaria e universalistica della salute scusate la fretta ma erano tante cose grazie 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 grazie